perfetto ci sono credo andiamo dai nobby warriors nobby warriors nobby warriors non mi aspettavo questa vittoria non mi aspettavo di parlare qui con voi in questo momento addirittura delle semifinali signori un gatto in squadra si è riuscito a arrivare in semifinale ma adesso hai del team ancora più strozzo avete i team bag i team bag silver e tommy ti beggate voi siete sicuri quindi potete dire alla gente in chat che voi sarete vincitore di questa partita di questa prima semifinale siete carichi siete carichi signori divertitevi divertitevi gatto facci l'urlo gatto facci l'urlo ma che l'urlo devi fare belli regà buon divertimento signori silver d'oghino e tommy dove è plug dove è plug problemi qualcosa sia ce l'abbiamo su un altro canale ok 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 bello plug bello allora signori come al solito prima semifinale avete contro la squadra dei 104 io io direi io direi di asfaltarli il culo però questa è vostra scelta state attenti che anche loro hanno fatto un bel 3 a 0 un bel 3 a 0 quindi era completamente impossibile saperlo quindi signori divertitevi hanno ragione quindi signori divertitevi spaccate tutto prima semifinale voglio bene belli regà buon divertimento dalcone qui qui è tosta eh qui è tosta ho sentito ho sentito i nobby warriors che vogliono ti beggare di bag cioè sono cattivi qui eh qui vogliono proprio fare le cose come si deve vogliono fare un bel 3 a 0 questa è tosta eh questa è tosta ci vorrà veramente vai vi dico che ho già i nomi di chi vogliono bannare buono mi dica mi dica mi dica dalcone allora per quanto riguarda i t-bag questi ultimi bannano sigma e moira sigma e moira ok invece i nobby warriors bannano bastion e jankrat bastion e jankrat ricordiamo quindi sigma, moira, bastion e jankrat ripeto sigma, moira, bastion e jankrat non possono essere utilizzati in questa prima semifinale signori quindi mi raccomando per i partecipanti quindi per i t-bag per i nobby warriors sigma, moira, bastion e jankrat non possono essere utilizzati detto questo abbiamo ragazzi prima semifinale che declamerà i primi finalisti a partecipare let's go let's go andiamo 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 accesso in corso signori andiamo questa ah ho letto signora moira signora moira no è sigma moira li jank il giardino mai capitata come mappa in questa in questo torneo vediamo subito cosa andranno a piccare li ho sentiti carichi li ho sentiti veramente veramente carichi quindi secondo me non sarà un 3-0 saranno troppo 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 li metto qua sul cocuzzo a far piccione se per puro caso il team 104 vince il torneo troppo le magliette madonna allora il team 104 gatto con reaper frizzino con mercy senni con il balordone di reinhardt tommy invece parte subito con la palla silver doghino con con soldato e plague con segnatta regà tommy con la palla di merda con il criceto pazzurdo tommy si pensa che passano dal ponte invece stanno flancando da sinistra se non se ne accorge prenderà un mega dick grosso come una casa e invece plague subito se ne accorge e spara con il balordo di zegnatta che fine ha fatto con l'altro oh tengo nel punto è sparito dove è frizzino eccolo silver doghino eccolo subito senni che parte con lo shift cerca di prendere silver doghino ma non ce la fa smartella plague va a cominciare a dare calci a destra a sinistra niente plague prende subito il cazzo contro il martello di senni il martellone di senni niente non ce la fa senni arrabbiato fracico tommy scappa con la palla senni continua a carriare senni continua a carriare senni continua a carriare signor senni senni continua a carriare c'è poco da fa tommy va a prendersi le sue cure qui è un 3v1 l'idea di tommy adesso qual è quella di farsi subito la mercy per per levargli le cure ma è veramente tosta perché senni continua imperterrita a dargli fastidio e niente tommy si oh ma ma tommy fa qualcosa di pazzo e si salva da morte certa la palla pazzurda tra 19 secondi se non chi non prende e inizia la conquista raga inizia la fottutissima conquista tommy sta cercando di carriarla in qualche modo 7 secondi ragazzi non so se ce la fa a fare qualcosa secondo me in una maniera abbastanza passiva non è eh stanno conquistando tommy va la biglia pazza e hanno conquistato hanno conquistato 1-0 1-0 tommy non si è fatto uccidere ma non è bastato a non perdere il primo round 1-0 per il team 104 signori gatto che fa tutto gatto che fa tutto gatto che fa tutto signori senni sta veramente carriando questo torneo aspettate ragazzi che io ve l'ho detto no b no b no b no b faccia la danza della sfiga per team 104 cioè ragazzi ragazzi il team 104 sta avverando cioè senni cioè senni sta carriando questo questa cazzo di questo torneo io sono io sono basito da senni senni sta giocando troppo bene non c'ha senso senni non ha senso in questo torneo cambiano completamente la comp i t-bag prendono fara ana e ramatra invece la comp dei 104 rimane la stessa ma adesso eccoli subito che passano da dietro flancono nello stesso modo senni viene addormentato con un colpo spettacolare di 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 silver docchino con ana plague cerca di flancarli da dietro ecco plague senza farsi vedere gli da due tre botte uh senni senni cerca di sta prendendo il megadick contro tommy senni crepa è la prima volta che vediamo senni crepare tommy senni cate tommy adesso subito che cerca di ammazzare il reaper c'ha un re un re spazio che non riesce frizzino non riesce perché plague prende botte in faccia con i missiloni signori 1 a 1 signori è per la prima volta 1 a 1 prima volta raga 1 a 1 buono porco 2 raga raga 1 a 1 la danza funziona cazzo 1 a 1 tbag contro team 104 signori non si è fatto si è stata subito la replica 1 a 1 raga 1 a 1 instant ma io non posso entrare dentro c'è stato un buon cambio che dovevi entrare nel team no non gli da fastidio che sei matta penso che se entri là dentro te scoppiano le orecchie quante boste che mi stanno a tirare permesso che te banno pure il canale te banno pure il canale cazzo per un attimo pure io cambiano non c'hanno più farma prendono Mei la tumorosa Mei e il team 104 rimane così invece eh si rimane sempre lo stesso un bel muro vogliono vogliono camperarla forse vogliono tenere il punto fino a che non ce la conquista ma non so se il team 104 glielo permetterà che vede un senny cattivo che fa dei shift allucinati hanno preso Anna per stomparlo la tecnica di senny è stata ormai troppo troppo ecco fatto ecco fatto signori il 2 a 1 è prossimo gatto non carrierà mai nulla perché è proprio gatto è proprio lui 2 a 1 calcola che se in questo caso senny non cambia tank Anna che slippa e e che dà il il devil il cosa come cacchio si chiama la la pozzoncina la boccetta per gli far prendere più danni al senny hanno fatto un buon un buon cambio hanno preso un buon cambio ragazzi vai Tommy mio padre e Silverino ha fatto ha fatto uno slip della madonna un bello slip il gatto non carrierà mai nulla perché è proprio gatto ma è descrizione più accurata rimane così il team il team di Tommy i t-bag golden frizzino cambia adesso non c'è più oh mio dio adesso golden frizzino what the è cambiato tutto senny healer sono what the fuck ma è durata un secondo e mezzo e i vincitori della prima semifinale sono i t-bag Tommy plague e silver doghino i primi finalisti i primi finalisti questa è la seconda pog dei senni seconda pog di senni e adesso t-bag preparatevi a cagarvi sotto controprendo perché tanto si sa signori senni è la seconda pog che prende ragazzi hanno vinto i t-bag ggp t-bag bravi 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 dall'1-0 fanno una remontata 3-1 3-1 hanno perduto con onore però dai beh sì 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 dai si sono fatti valere hanno preso i counter giusti dai hanno preso i counter giusti hanno preso i cazzi giusti hanno preso spettatore bravi 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 non era proprio scontato non era proprio scontato bravi comunque non c'è scampa la danza della sfiga ma con tu ero bello chi è scritto Tommy mio padre non me lo ricordo allora signori adesso abbiamo l'ultima semifinale l'ultima semifinale vi dico subito tabellone eccolo qua il tabellone signori è proprio qui eccolo qua prossima semifinale Apex Predator contro i Berserk regà questa secondo me è la una se non la più difficile da pronosticare è tosta è veramente tosta questa regà tanto 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 quindi intanto andiamo a scrivere i team così almeno li metto allora Apex ma perché sei così stronzo ok allora Apex Predator poi abbiamo Predator perché Predator niente perché sono un dislessico di merda e poi Berserk 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 ok perfetto allora Apex Predator Apex Predator sono i vabbè invito Predator e Amedeo Amedeo e Predator e poi abbiamo anche Suzuia ok deve essere così Predator squadra blu perché non me l'ha invito con l'altro Amedeo invito Amedeo ok perfetto ecco Amedeo squadra blu perfetto sì ci pensano ci pensano di mod a fare la bet ci pensano di mod ora non si può bannare nessuno no 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 continuano a bannare in finale non si banna nessuno questa è l'ultima semifinale questa è l'ultima semifinale chi vince qua rieccolo Mattia qua con Elina c'è la finale terzo posto certo Luigi mo facciamo la seconda facciamo la secondo gruppo praticamente di semifinale poi facciamo la finale terzo e quattro posto e poi facciamo la finale primo e secondo posto la finale da Aglietto poi Berserker dove invita The Dragon e poi ok vai The Dragon e poi invita gli altri due ragazzacci Dragon eh gatto un po' di Annate è bene sempre gli avete fatto un 3-0 avete vinto il primo round poi vanno presi i counter dovete cambiare subito al secondo round raga subito al secondo round avreste tutto cambiato però vabbè poi la prossima potete far però la finale per terzo posto eh no ma i segni ha fatto più gatto ha fatto più gatto è bellissimo vado a rompere le scatole ragazze a Cinchat su this 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 allora eccoli qua signori eccoci qua è proprio lui è Mr. Jack è proprio lui è proprio lui signori io vi vi dico che il team contro che avete avete potuto vedere è veramente tosto è veramente tosto è veramente tosto quindi vi faccio un grande in bocca al lupo per la seconda semifinale un buon divertimento e se beccamo dopo bello di capo buona fortuna bella 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 signori eccoci qua eccoci qua salve salve state combattendo forse con uno dei team più forti del torneo eh lo sappiamo ma dobbiamo farci valere fatevi valere divertitevi e se beccamo dopo bello di capo buon divertimento ciao stupendo bella 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 Darkone ritocca di nuovo eccoci qua comunque ho già i nomi ho già i nomi grande comunque se non c'ero io manco i semi di finale arrivano ad nabbi però è vero però è vero va carriato il primo team cioè va carriato il primo round cioè il primo round è il primo scontro che avete fatto è vero è vero è vero un applauso a senni per il carrying anche perché prima hai fatto due pog prima hai fatto due pog comunque bando le cianci cianci del bando e mi dica mi dica i eroi gli apex predator bannano ana e rodog vai i berserker bannano bastion e reaper eroi bannati in questa seconda e ultima semifinale ana rodog bastion e reaper ripeto ana rodog bastion e reaper senni vergognoso ma come vergognoso no senni ha giocato bene ha giocato veramente bene avete giocato bene avete perso calcola è il man of the è il man of the torneo in questo caso senni perché ha giocato veramente bene fino a questo momento è l'unico che ha tenuto costante il suo modus di giocare non tu guarda invece gatto in squadra è tosta quindi devo dire che ha fatto un buon lavoro bravo 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 senni bravo senni comunque signori iniziamo seconda e ultima semifinale pronti partenza via 21.000 punti sul piatto questa è tosta raga questa è veramente tosta sono due squadre non so se si può fare avutiamo certo possiamo fare possiamo fare quello che vi pare sono i campioni morale del torneo grazie i 10 pittini i robbi grazie grazie non lo so dottore questa partita non lo so allora non lo so manco io fratellone perché la squadra ah i dragonhomen e kemku utilizzano lo stesso team di prima eh sì invece il team di predator utilizza utilizza abbastanza strano eh lo sto vedendo è abbastanza particolare mettono una mercy insieme a a junkrat e boh strano forte però cominciamo subito all coup doomfist eh sono chiusi sono chiusi dentro non hanno uno scudo questo è il problema non hanno uno scudo a parte i pugni di predator ma infatti tracer va subito a rompere il cazzo a mercy oh e cadono in due cadono in due cadono in due ragazzi cadono in due 2v2 ah sì no 2v1 rimane predator con doomfist da solo cazzottoni c'è omen con tracer no ragazzi non ci credo what the fuck non ci credo predator la stava glasciando predator la stava glasciando predator la stava glasciando raga 1 a 0 1 a 0 what the fuck dopo questa c'è la partita del terzo posto sì orco 2 però la stava glasciando bravo bravo dopo questa c'è la finale dopo questa c'è la finale esatto no dopo questa c'è sta la finale terzo del quarto posto e poi finale primo e secondo posto io ho detto che sto qua non so giocare doom vai let's go let's go hanno cambiato hanno cambiato hanno messo semplicemente Cassidy Amadeo ha messo Cassidy e predator ha messo Reinhardt è vero hanno ricambiato hanno attorto Doomfist almeno c'è uno scudo oh subito madonna mia cattivo e questa cosa oh mio dio hanno trovato un team abbastanza notevole il team di dragon team veramente notevole buona dose di cure buona dose di attacco mamma mia mamma mia predator come va con le smartellate eeeh infatti 3v1 eh oh nooo 3v1 un'altra volta mamma mia 3v1 un'altra volta predator cerca in qualche modo di fare danni ma purtroppo 3v1 niente abbastanza infattibile ragazzi non ci sto credendo regà 2 a 0 2 a 0 predator orq2 eh il team di dragonomen e kemku è tanta roba regà hanno trovato una questo è il potere di mattia che guarda i suoi pom-pom ha puntato 5.000 no non ti ammazzava l'onda per così poco predator che fai adesso tutti apprendersela con predator ma che c'entra predator il poverino predator no predator di nuovo con doomfist amadeo con simmetra la prima volta è un cambio di metra sì 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 t8k per i berserk sommo ha puntato madonna reddator io tifo te spaccali hanno messo moira per contorare tracer in realtà almeno forse cerca di di campare un po' di più rispetto a una rispetto a una mercy ho visto sommo sei stato più lungimirante di me orco 2 predator che prende pugni sì predator mi sa che tra poco lo giungerà l'olimpo anzi lade oh what the fuck è rimasto con uno di vita niente non ce la fa lì l'era la best 2 contro 1 2 v 1 amadeo predator 3 v 2 3 v 2 3 v 2 adesso è 3 v 1 adesso è 3 v 1 un'altra volta l'ultimo che rimane predator l'ultimo che rimane non ci sono cure ricordiamolo e niente finisce mi so probabilmente un 3 a 0 probabilmente un 3 a 0 ma io ti direi che anche è sicuro è una sicurezza il 3 a 0 vince il team di berser questo è il potere di mattia questo è perché avete detto che predator vinceva signori 3 a 0 kemku la pog bravi 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 3 a 0 che cosa che cosa ti vengono a rubare dentro gg d'alessio gg d'alessio buono qui il cotto è shiftato male ragazzi non se l'aspettava nessuno si aspettava questo risultato assolutamente no e quindi si ne frega un cazzo vinto va bene così let's go signori a questo punto direi di fare finale terzo e quarto posto e poi fai la finale e poi faccio la finalona eh si conviene sposta in spettatori partita per il terzo posto partita per il terzo posto quindi terzo posto sono il team 104 e il team The Predator si assolutamente si ha vinto il team The Berserk raga vinto il team The Berserk i finali si stanno T-Bag contro Berserk non conviene fare prima la finale no 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 terzo e quarto posto finale viene ultimo viene questo ragazzi eccola qua quindi abbiamo il team terzo posto finale terzo posto sono i i Nobby Warriors contro i Apex Predator quindi terzo e quarto posto Nobby Warriors allora andiamo qua andiamo qua Nobby Warriors dobbiamo invitare Gatto Senne e Golden Frizzino intanto diamo i nomi eh eh rieccolo ho detto solo con Berserk Nobby con la I porco Sio Nobby Warriors e poi abbiamo Apex Predator Apex Predator ok e inviamo Gatto Senne e Frizzino Gatto Frizzino e Senne in vita ok squadra porco si sono un coglione non ho un video catto sono deficiente ok squadra blu in finale ve lo ripeto non si può bannare nella finale però nella finale qui si può bannare qui si può bannare terzo e quarto posto si può bannare nella finale non si banna un cazzo vabbè non è terzo posto è terzo posto si perché poi per terzo posto per terzo posto allora poi dobbiamo invitare Predator ok il quarto posto vincita la parte sulle spalle è questo eh si bravo Predator Amedeo l'importante è partecipare ok ok qui come al solito dovete bannare sempre i soliti eroi valgono le stesse regole solo nella finale non potete non dovete non bannare nessuno praticamente ok allora riandiamo riandiamo ok riandiamo dai nobby warriors andiamo da prima dell'ora prima dell'ora nobby warriors nobby warriors signori signori questa questa per voi deve essere il riscatto il riscatto morale che vergogna una vergogna una vergogna avere gatto in squadra purtroppo è una vergogna lo so lo so ragazzi lo so purtroppo avere gatto in squadra è una vergogna però non demordete non demordete potete vincere per il terzo posto potete vincere per il terzo posto vi ricordo vi ricordo buon proseguimento signori mi raccomando cercare di dare tutto a voi stessi perché come avete potuto vedere il team ha fatto 3 a 0 quindi signori buon divertimento bella 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 signori 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 purtroppo è successo banna Reinhardt un banna Reinhardt proprio così mister jack qua siamo triggerati è ovvis ovvis ragazzi un 3 a 0 aggressivi scorso match aggressivi aggressivi è vero è vero non vi hanno dato tempo di fare nulla poi con la stessa comp vi hanno aperto purtroppo c'è da dirlo però non è detto non è detto perché il terzo posto è fattibile è fattibile avete contro gatto quindi tranquilli vabbè vabbè almeno almeno salite sul podio almeno salite sul podio regà vi voglio bene buon divertimento se beccamo dopo bella regà bella 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 ecco gas 1020 bitini perché c'è gatto c'è gatto regà c'è gatto c'è gatto è vergognoso come senny è vergognoso come senny mister jack è vero è vero me la collo dimmi di arcone dimmi di arcone vado vado vadi mi sono arrivato vadi siamo pronti predator vinci si ma che che avete imbettato puoi vedere roberta fa un po' a bagnirola allora i nobby warriors hanno un 35% grazie mille per il follo grazie mille bello come stai bevono in chat bello c'è gatto lo so c'è gatto però non non vi preoccupate non vi preoccupate tutto bene fredellone stiamo facendo la finale del terzo e quarto posto per quanto riguarda il torneo di overwatch fredellone perché ti becca sono i miei amichetti darkone sta andando a chiedere appena ritorna il darkone vi faccio supporto morale vi facciamo sapere quali sono gli eroi che vengono bannati è il super torneo fredellone abbiamo quasi finito finale del terzo e quarto posto e manca la finale e basta signori tanta tanta cazzo di roba non pensavo troppi troppi 3 a 0 sono riusciti a stacce fuori sommo perché vuoi perdere tutti i tuoi punti ma perché cosa ha puntato il sommo ma sa che ha puntato il sommo madonna rica 15158 punti a Decoin sulla vittoria degli Apex Predator e 8253 sui Nobby Warriors forco 2 buonasera arribo un salve vada salve sono tornato anche beh bergomi eh salve sì sono voi allora gli Apex Predator bandano Ana e Reinhardt ok invece i Nobby Warriors bandano McCree e Doomfist puntate i miei 7k se nobby Warriors l'ho detto bene bravo così si fa ban Ana Reinhardt McCree e Doomfist non guardate come li ho scritti perché li ho scritti di merda i nomi perché non so come si scrivono però il senso è quello Ana Reinhardt McCree e Doomfist quindi signori qui parte Occhio della Tigre per la finale terzo e quarto posto del secondo torneo del canale di MrGX signori ve lo ricordo Ana Reinhardt McCree e Doomfist che vinca il migliore per il terzo e quarto posto si andrà a vincere un titolo speciale sul Discord per chi arriva terzo per chi arriva quarto vincerà un po' daglietto messo nella pasta al sugo con le patate vai Senni dipende tutto da te vai Senni Senni cari lì tutti vai dove fai la misa che arriva sì se arrivi quarto pasta al sugo con l'aglietto e patate con l'aglietto pasta al sugo e pacca sulle spalle e pacca sulle spalle let's go pasta concentrato di aglio pasta concentrato di aglio sì capito che ti rimane proprio quella puzza di aglio nella gola comunque il team 104 parte con Ramatra Reaper e Moira e il team Apex Predator con Genji prima volta che vediamo Genji in questo torneo Moira e Roadhog vai Senni vai Senni vai Senni vai Senni Senni il giorno dopo credo non essere una merda vai Senni sempre tutti Senni 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 vai e basta Senni con con Reaper uh Reaper buono contro Roadhog un buon pick un buon pick un buon pick cazzotti in facciona uh frizzino butta giù Amedeo butta giù Amedeo bravo gatto che sta curando incestantemente Senni che scappa e non riesce a vedere la Moira avversaria gatto prende il mega dick contro Predator con Genji 2v2 è un 2v2 è un 2v2 ancora what the fuck oh hanno eliminato Predator hanno eliminato Predator e viene buttato giù signori 1-0 per il team 104 signori l'aietto è vicino stanno a litigare se ne è gatto stanno a litigare se ne è gatto ragazzi 1-0 eh non si possono sentire non si possono sentire non litigate be quiet be quiet però devo dire che gatto ha fatto un buon un buon healing a un certo punto eh ho messo tutti i miei punti Senni che lui era Predator in multiverso esiste ragazzi questo perché avete detto che Predator vinceva gli avete fatto una magumba grossa come una casa Prissino che cambia prende Orisa Predator prende Junker Queen Mercy e Reaper completamente diverso però adesso fa il tank non è più DPS vediamo dalla Stata della Libertà ci mettiamo verso l'alto e controlliamo che cosa succede subito Frizzino giusto pick per prendere per dare il Megadick contro Junker Queen Frizzino cerca di buttare giù la gente ma non ce la fa perché Amedeo cerca di shiftarlo e lo shifta viene ricurato viene fulcurato da Mercy Amedeo prende il cazzo un'altra volta cerca un rest pazzo e lo fa lo fa ma viene super uccisa full instant morta non hanno più cure ma non per questo Gatto continua a morire Golden Frizzino è l'ultimo Senni muore Golden Frizzino è l'ultimo 1v1 1v1 Amedeo contro wow 1 a 1 1 a 1 L'Aietto non è più tanto vicino signori 1 a 1 Luigi dice se vince il Team 184 elimino Overwatch per due giorni ragazzi 1 a 1 bravo Amedeo bravo Amedeo fa tripla fa tripla bravo 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 si è fatto riprendere giusto quel rest è stato decisivo il rest di 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 Siodessa Max è stato decisivo il multiverso è un concetto di cui abbiamo spaventosamente poco il multiverso è la è la vittoria del del Team 104 no Lollo come ti bevi un litro di cianolo si 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 vai vai e il Team 104 Darkone qui stiamo sull'1 a 1 Beppe eh lo so eh lo so diciamo che è abbastanza imprevedibile questo risultato cioè non me l'aspettavo pensavo una vittoria proprio a tavolino da parte la porra dei predator ma Senti cerca di flancarli ha cercato di flancare la merce avversaria ma non ci riesce Amedeo vuole fare un 1v3 viene curato da merce sono più o meno sotto il frizzino eccolo qua ottimo muro gatto gatto sta curando gatto sta curando ma non sta curando il tank ha finito le cure ha finito le cure ha finito le cure dovrebbe fare danno gatto e niente frizzino ha preso ha preso troppo dick niente gatto con moira devi fare danno nel mentre perché se no hai finito Senni cerca le cure ma non ci sono le cure sulle personalizzate infatti 2 a 1 signori 2 a 1 signori 2 a 1 hanno ribaltato da 1 a 0 a 2 a 1 non è ancora detta signori l'aglio 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 sento puzza di aglio per il team 104 sento puzza di aglio purtroppo mettere moira in squadra si è buona ma se non stai attento con le cure finisci subito il potere e devi fare danno se non fai danno il potere non lo riacquisti e non curi quindi è ottima non lo sa hanno sbagliato hanno sbagliato non hanno messo un healer signori signori gatto hanno messo 2 dps e un tank qui si saranno dicendo le peggio cose sono sicuro signori avete sbagliato la vittoria questo è stato il concentrato d'aglio se qualcuno di voi se qualcuno di voi tre anzi tra gatto e golden frizzino uno di voi tre si deve buttare non lo scrivere perché quello prima ci ha pensato da solo e si è buttato è vero gerico si è buttato gerico si è buttato in autonomia quindi o gatto o frizzino vi dovete buttare se no devo dare la vittoria a tavolino no se iniziano a spararsi e nessuno dei tre si butta basta vince a tavolino uno di voi due si deve buttare diamo un massimo di tempo 30 secondi diamo un diamo un 10 secondi diamo un 10 secondi aspettate un attimo fate uscire fate uscire o frizzino o gatto si devono buttare uno di voi due vediamo un po' che succede gatto e gatto si saluta ok e che si butti gatto 3 a posto voglio fare il countdown signori qui è finita neanche neanche a comment non abbiamo neanche avuto modo di commentarla perché qui abbiamo un 3 a 1 e l'errore madornale la favola è finita la favola è finita la favola è finita la vittoria per il terzo posto va al team di apex predator e io ve l'avevo detto gatto non conta niente ecco fatto gatto fa proprio schifo io mi immagino mi immagino la commentazione bravo a mettero per la pog tra segni e gatto quando hanno realizzato che ci avevano lo stesso dps mannaggia io voglio sentire la replica della conversazione tra segni e gatto io non ci voglio stare perché avranno tirato le peggio madonne sicuro sicuro credo la mia madre è regina dei junker mannaggia quindi signori terzo posto bravissimi un bel applauso uno spammino di applausi per gli apex predator vincono il terzo posto quindi un titolo speciale sul discord e adesso per il doghino che si sta proprio giugiorando con la finale fiscica signori terzo posto apex predator ora e ora il team ma io ti ho detto frizzini c'è a te dal torneo scorso questo che potevi scegli la squadra c'è prossimo torneo niente gatto e senni signori punto tutto sui berserk adesso è la finale i teabag contro i berserk infatti frizzini quindi andremo a scrivere il team fai proprio schifo un gatto fai proprio schifo ma io lo sapevo che tanto la trollava prima o poi l'avrebbe trollata ed ecco fatto è partito il troll ed è così è stato è così è stato beppe ti bag e abbiamo poi grazie grazie stavo io bene comunque chi punta tutto sui berserk ragazzi ricordatevi che c'è Roberta che fa la danza della sfiga è vero è vero Roberta fa la danza della sfiga Tommy plague questo è finale raga Tommy plague e silver doghino ok perfetto abbiamo anche la canzone di queen sotto we are the champion e poi abbiamo i berserk e devo invitare semplicemente dei dragon e poi ci penso di invitare i suoi amici ho sbagliato 3 a 1 3 a 1 dai questa bettina faccio la danza della sfiga contro Roberta per annorare la sua titanza abbiamo la bettina signori diamo tempo ai ragazzi signori bettate questa è la finale quindi bettate come se non ci fosse un domani nessun ban per la finale nessun ban per la finale ve lo ricordo nessun ban per la finale potete utilizzare quello che vi pare ovviamente però sempre un tank un dps e un healer per il resto usate quello che volete non ci abbiamo problemi schifo e vergogna sciagura una cosa a questa partita se poco poco dovessero scegliere visto che è la finale dovessero scegliere due dps due healer due tank se dà il tempo se qualcuno se se ne accorgono di buttarci prima che iniziano a combattere si 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 no 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 come prima come prima come prima quindi se metti caso se sbagliate uno dei due dps o dei due tank o dei due healer si prende e si butta poi si ricomincia la partita sul 3-2 vergognosi si è che a te se ne niente se si cominciano a sparare prima che si buttano e si cominciano a sparare no vabbè ma tanto lo vedi se ne accorgiamo subito nel senso quello non è dipende se loro se ne accorgono eh si vabbè ci stanno in modo apposta allora no parole andiamo andiamo a salutare andiamo a salutare i berserk per prima amicino ma una cosa ma te piace l'aglio almeno aspetta vado a salutare vado a salutare signori siamo giunti alla finale salve eccoci eccoci siamo giunti alla finale quindi un enorme in bocca al lupo sarà assolutamente divertentissima grazie mille rega divertitevi e se becchiamo grazie belli rega bella 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 ciao 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 ti beg ti beg cilverino e tommy e plago che poi ho parlato da un'altra parte io vi devo dire sarà una una bella sfida loro sono veramente forti sono veramente forti non hanno mai cambiato praticamente i comp quindi posso comunicare una cosa posso comunicare una cosa vai comunica vadi in sala in sala d'attesa prima di entrare in questo canale discord mi è stato detto da un anonimo di dire gatto fai schifo testuali parole l'abbiamo detto sul discord va bene così anche chat è partito un gatto fai schifo ma va bene così rega divertitevi buona finale se arrivate secondi non è un problema non siete arrivati non siete ai livelli di gatto noi abbiamo già vinto dai rega divertitevi bella 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 hashtag gatto vergogna hashtag gatto vergogna dottore io vorrei far vedere i numeri della bet ah i numeri della bet fammi vedere i numeri della bet porca 52.000 punti rega penso che abbiamo superato il record delle bet 52.000 punti si si 24.402 sui t-bag e 27.775 sui berserk rega questo è il record della bet porca troia comunque simo ancora no non ha scritto mattia go berserk porca troia tutti stavano aspettando mattia questi numeri come a cap head davvero signori la finale del secondo torneo di overwatch inizia divertitevi ti fate come pezzi di merda le voglio bene 3 2 1 che vinca il migliore let's go let's go andiamo una finale che è un po' piccola si inizia con con la mappetta i giardini di Jin Jin Jong alza della sfiga per i best in level 3000 bettato bettato rega bettato bettato vai beta ok è arrivato ho fatto la cacca però la vai beta vai beta coglione che sei signori spammino spammino dei vostri team preferiti del vostro team preferito pronte la battaglia il team del berserk non cambia comp sempre la medesima se dopo devi parlare non è vittima il team di tbag plago e ramatra wow l'uvo lucio hanno preso tommy e si verdoghino con may la tumorosa may è vero che sono molto interessato a scoprire il risultato di questa battaglia finale eh si anch'io hanno preso subito il punto i berserk invece hanno flancato e Leonardo sta dicendo che se i berserk beh perché qui comunque si stanno contendendo l'olipo qui non ha parlato perché non ha scritto prima della partita con berserk già abbiamo trovato il colpevole stupenda questa battaglia si stanno difendendo a colpi di botte c'è omene che flanca da destra cerca di prenderle la sprovvista ma fortunatamente Tommy se n'è accorto l'ha buppato via è dovuto ritornare indietro il team dei berserk con il muro davanti di me non riescono a entrare ricordiamo che è finito il countdown dove c'è il mega punto devono ottenerlo plago che si va in modalità god da solo cazzo toni in faccia la gente dragon viene buttato giù per la prima volta viene buttato giù anche kemku il tank 3v1 contro il tracer oh mio dio omene cerca di scappare ma sono 3v1 la prima volta che vediamo il team di berserk in difficoltà cercano di ottenere il punto omene da solo sono tu full vita sono completamente full vita perché Tommy è ancora vivo omene cerca di fare qualcosa voleva forse fare la fog e infatti cerca di tirare la la bobbetta la finale ma non ce la fa e niente con un cazzotto in testa di plago e butta giù dei dragon un cazzottone in faccia non c'è scampo alla danza della sfiga raga 1 a 0 1 a 0 la prima volta vediamo i berserk in questo torneo che vengono demoliti vengono demoliti da un'altra squadra ragazzi 1 a 0 1 a 0 per il team dei teabag signori signori che sta a frizzino che sta continuando cioè a frizzino ormai è contro il gatto allora è uscito l'hashtag prossimo torneo basta gatti è mattia che non ha scritto è vero questo è mattia che non ha scritto ragazzi ragazzi c'è un cambio totale nel team dei berserk dragon con anzo omen con road dog campu con ana e invece il team dei teabag rimane il medesimo e poi c'è luigi che mette hashtag tommy ingravidami questa volta invece c'è il team dei teabag che prende il punto direttamente ricordiamolo sono 1-0 tommy viene catturato dal gancho di omen e non ce la fa infatti sarò preso e buttato giù plago cerca di fare qualcosa cerca di dare cazzottoni al tank avversario ma omen si continua a curare sono full vita sono 2-3 omen continua a prendere la mei silver doghino viene aggrato viene preso dal gancho ana in deflect plago viene preso viene preso ganciato da omen credo credo che l'1-1 è vicino 1-1 è vicino signori 1-1 hanno giocato meglio hanno giocato meglio hanno preso la comp giusta e l'hanno diciamo che questa battaglia per l'olimpo è molto contesa dire di sì dire di sì dire di sì fabio vai uff madonna sono girato per loro 1-1 scendi fabio non è semplice decretare un vincitore adesso come adesso no no assolutamente no l'1-1 è molto aperta è molto aperta è molto aperta poi per il fatto di non di non bloccare la possibilità di avversari di eroi è meglio anche perché la finale almeno se la giocano con tutte le loro forze va col suo main junkrat di nuovo la comp di prima invece per i berserk cercano di counterarli tommy con il junkrat e come faccio a passartela aspetta mutava plago che cerca di counterare orisa di counterare road dog tommy che cerca di mettere le trappoline ma vengono subito buttare giù da road dog da omen plago difende in modalità metallica kemku cura all'infinito il suo tank il tank viene preso dalla lancia si autocura tengono il punto il team dei t-bag tengono alla tengono alla distanza oh l'ha addormentato l'ha addormentato silver doghino oh wow è quasi morta ana avversaria morta ana avversaria con la bomba di tommy da lontano bravissimo tommy bravissimo bellissima giocata 2v2 2v2 non funziona i sandalers 3k e plago e cadono e plago e cade qui deve carriare la tommy con i suoi con i suoi danni con il suo junkrat è l'unico modo omen recupera tutta la vita eccolo eccolo non è stabile invece non cade hanno ammazzato ana avversaria viene viene buffato mamma mamma allora io devo dire una cosa qui silver ha carriato il punto lo ha carriato completamente completamente ma con la disesa di questo punto wow wow hanno diviso il punto c'è tank e dps contro un dps e un healer ricordiamolo il tank avversario era un road dog che si poteva autocurare tanta cazzo di roba tommy gradiami due volte mamma mia silverino dai silverino ha fatto un lavoro clamoroso bravo 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 ma non è ancora finita siamo sul 2 a 1 può sempre fare il 2 a 2 qui vediamo un altro cambio per quanto riguarda la squadra dei berserk scrive dai la squadra i berserk con ramatra ana e may il berpendit mia sorella silver pendit mia sorella è bellissima abbiamo un problema hanno un problema hanno un problema hanno un problema hanno un problema lag ok aspettate aspettate ditemi quando avete risolto ok vai oh mio dio che cosa ha fatto Plague ha lanciato la lancia ragazzi 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 io non ho capito io sono perplesso confuso Plague ha lanciato la lancia in faccione a dragon l'ha buttato giù signori i vincitori del secondo torneo di overwatch sono i t-bag andiamo subito andiamo subito sul discord andiamo subito sul discord dove sono dove sono sono scappati no non ci sono più palordi dove siete palordi dove cazzo sono ragazzi ragazzi una pog degna di una finale gg ragazzi i t-bag vincono il torneo mettetevi sul discord sono orgogliosa di voi complimenti ragazzi complimenti mettetevi sul discord che vi venga a salutare facciamo entrare i vincitori non lo so c'è proprio bello c'è frizzino lì signori i vincitori i vincitori li voglio qui sul discord adesso dove dove cazzo siete maledetti eccoli eccoli signori miei signori miei un applauso a tutti ma perché c'è frizzino nei t-bag ma perché ma vai via signori signori bra signori vi scusate gra 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 devo dire che l'ultimo attacco signori plagu che tira giù un cazzo di lancia si opera bravissimi qui qui c'è chi è compiaciuta la lancia bravi 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 che vuoi ah l'aglietto ragazzi dovete guardate c'è l'aglietto niente è ricozzatele con l'aglietto frizzino vai è un pannolino è un aio vuoi caparte l'aglietto fratello è aio bravi 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 quindi signori che cosa decidete sub o vip tutti in vipozzo signori cominciamo a dare cominciamo a dare i vipozzo cominciamo a dare i vipozzo allora scrivetemi in chat su twitch così almeno ok bravi ok signori qui dobbiamo dare i vipozzo si possono uscire la sub hanno scelto il vip molto 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 tanto abbiamo tutti il pride grazie 100 obiettini miledi grazie aggiungi nuovo iniziamo con let me do it for you e viva i team oddio quali sei tu aspetta riscrivo no non hai capito ce ne sono 500 miliardi c'hai la faccetta di un junk ok perfetto vai tommy eccolo qua poi silver dog andiamo silver dog eccolo qua manca la s lo so aggiungi nuovo manca la s ok ce l'ho ce l'ho si deve aggiungare si deve aggiungare si deve aggiungare silver dog vipone nazionale e poi manca plug madonna rega tre vipozzi così eh lo so let's go per sempre per sempre eh si devo vedere così posso dire che sono un vip posso dire che sono un vip let's go posso dire di essere un vip ora vai plug dovrei averlo fatto vai e poi il team quindi dei berserk se mi scrive in chat vi do il vip perché poi vi devo dare il vip posso avere il vip ho provato a giocare con gatto e sandy insieme voti io mi sembra un po' sus si ok ce l'ho scritto allora kenku eccolo qua allora kenku eccolo qua mi sembra anche giusto devo dire che la finale avete fatto un lavoro della madonna sia voi che la squadra di berserk tutto merito della mia lancia finale noi abbiamo detto cioè prima di entrare sul discord ho detto che ci pigliavamo un cazzo di tre metri però vabbè non posso dare il vip a kenku perché perché non posso darti il vip no a me vedo che ce l'ha già anche io ce l'ho già no non voi no no lui kenku kenku ce l'ha già che cazzo gli ha dato ah ok no si era impallato allora ok 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 buono ok 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 lo è omen eccolo qua ok omen eccolo qua vai omen dovresti essere tu in teoria vip perfetto e poi chi manca eh l'ultimo round è stato me fratello vanno tirato una lancia troppo precisa troppo precisa grazie kenku grazie grazie a voi per la compagnia oh bibino subito per la compagnia per il divertimento avete dato prova che siete veramente belli 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 cazzuti intanto faremo un altro torneo tra penso un mesetto due mesi insomma pure bebbino ok sei vip ragazza ok oh light training si avvicina e muore qui eh grazie raga oh signori eh a voi il treno si avvicina e muore qui a me non ha ancora dato le ricompienze ma che che senso che te le dà dal livello 3 quelle ricompienze e le ricompienze del treno io e Roby abbiamo chissato un bot di sub e abbiamo fatto il livello 2 e le ricompienze te le dà solo al treno ma che merda vero votiamo la best action del torneo assolutamente raga io intanto a voi vi saluto grazie mille per i game grazie mille bravissimi si beccamo in chat bella raga bravi 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 ciao 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 bravissimi bravi proprio bravi bravi proprio la best action non lo so quale vuole essere la best action non so se fare no best action no forse il miglior il miglior giocatore miglior giocatore in base a alle pog in base a quello che ha fatto però non lo so non lo so io metterei un best tank dps healer raga per me eh senni col megacazzo secondo me miglior tank per la squadra che c'aveva era senni per me per come la vedo io miglior dps la tracer dei berserk rompeva veramente il cazzo e il migliorile il miglior support gatto no non è vero scherzo non lo so omen omen ha fatto un lavoro della madonna con tracer il miglior support non lo so miglior support non lo so miglior giocatore in generale non è un gatto silverino probabilmente silverino sì probabilmente silverino che fa da support sì no 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 silverino che ho fatto da support mi senti sì silver best support sì devo essere sincero sì silver best support sì comunque stacqua raga che sono abbastanza stanco mi fa mal la capoccia io il miglior healer vabbè alfino io non ti ho voluto di niente però te l'avrei scritto in privato che tu per me sei il migliorire del mondo e dell'universo comunque raga io spero che vi siate divertiti spero che questa cosa possa aumentare sempre di più e magari un giorno fa anche un bel 5v5 sarebbe sarebbe tanta roba quindi si direbbero almeno 40 persone però sarebbe tanto 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 carino riuscire a farlo quindi ci riteniamo aggiornati comunque sul discord quando vogliamo fare un qualcosa se vogliamo farlo insomma più avanti tra un mesetto un mesetto e mezzo e i terzi quello ci pensa alfino un titolo speciale sul discord tra i terzi quindi ci pensa lui raga io vi mando da kemku balordone grandissimo che ci ha pure scritto che facciamo il torneo sul nostro canale quindi vi mando da kemku mi sembra anche giusto e signori io faccio il raidino a kemku vai grazie a tutti quanti come al solito per la compagnia grazie per chi ha partecipato grazie specialmente che mi hanno dato un sacco una mano ve voglio bene ci vediamo domani ci vediamo domani tanto domani e domenica una buona sera a tutti quanti grazie mille amedeo simone ho fatto la cacca rosa luigi frizzino omen vabbè raga a tutti quanti grazie grazie di cuore e ricordate sempre che noi siamo community andiamo da kemku e gli andiamo a romper cazzo ve voglio bene se beccamo domani buona serata raga ciao stupendi andando a fa casino ciao belli ciao ciao grazie a voi grazie a voi ciao ciao ciao